In occasione dello sciopero del personale del laboratorio analisi presso il policlinico di Chieti, questa mattina l'unione sindacale di base e la CGL hanno organizzato un sit-in in Corso Maruccino a Chieti per denunciare l'immobilità della ASL nel risolvere i problemi che affliggono il laboratorio dell'ospedale Teatino e contestualmente il fallimento del tavolo tecnico permanente proposto dalla stessa ASL e successivamente abbandonato da quest'ultima che tra l'altro in uno strenuo tentativo fuori tempo ha chiesto l'intervista della prefettura al fine di scongiurare lo sciopero che si è regolarmente tenuto questa mattina. Noi abbiamo iniziato questa proposta possiamo dire già da due anni fa quando ci furono le esalazioni al laboratorio analisi di Chieti alcuni tecnici laboratori alcuni dirigenti medici andarono a finire al pronto soccorso da allora abbiamo iniziato e abbiamo iniziato a dire che dovevano essere sistemati gli spazi le strutture eccetera perché uno dei motivi è quello che secondo noi dove è localizzato il laboratorio analisi non ha i requisiti per avere l'agibilità e perciò siamo andati dal sindaco a dirgli pure questa cosa. Durante il sitin una rappresentanza dei lavoratori e dei sindacati ha incontrato il sindaco di Chieti Umberto Di Primio che ha parlato e ha promesso il massimo impegno del comune per risolvere la vertenza. Diciamo che l'incontro è stato per noi esaustivo abbiamo elencato le problematiche abbiamo fatto presente al sindaco che secondo noi i locali sono in idonei e ci ha promesso che verrà fatta da parte dei difficili preposti comunali un'ispezione per tale verifica quindi siamo più che soddisfatti. La protesta andrà inevitabilmente avanti fino a che le problematiche non saranno risolte insomma non possiamo permettere che 20 tecnici e 15 dirigenti lavorino in condizioni ambientali assolutamente inaccettabili.